Musica Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Siamo la grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes Carissimi, preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera Continuiamo a pregare per il Santo Padre, Papa Francesco, per tutti gli ammalati Per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo Perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno E per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono Preghiamo per la conversione dei peccatori Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione Attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo A nome vostro e per tutte le vostre intenzioni Primo mistero glorioso La risurrezione di Gesù Perché cercate tra i morti colui che è vivo Non è qui il risorto Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie, della debolezza Corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo Cristo è risorto Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione Padre nostro Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo, così in terra Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi e per noi Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo Poi li condusse fuori verso Betania E alzate le mani li benedisse Mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato verso il cielo Talvolta anche noi rassomigliamo agli Apostoli E ci fermiamo a guardare il cielo Aspettando nuovi segni da parte di Dio L'angelo del Signore ci dà la risposta Perché? State guardando verso il cielo Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo, così in terra Lascia oggi il nostro pane e portiamo Perché metti a noi i nostri debiti Come anche noi li benediamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla benedizione Ma liberaci dal male Ave Maria piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia Il Signore è il Signore con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia Ave Maria piena di grazia Il Signore è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia Il Signore è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia Ave Maria piena di grazia Il Signore è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia Il Signore è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia Il Signore è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia Il Signore è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia Il Signore è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia Il Signore è il frutto del tuo seno Gesù Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è un'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è un'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, e se volete, se volete. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Dopo la Pentecoste, gli Apostoli escono allo scoperto e gridano senza paura il nome Santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una paura soltanto, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi, e diventare la prepista di una nuova umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è il mio nome della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è il mio nome della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è il mio nome della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è il mio nome della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è il mio nome della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è il mio nome della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è il mio nome della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è il mio nome della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è il mio nome della nostra morte. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E' il mio nome della nostra morte. E' il mio nome della nostra morte. E' il mio nome della nostra morte. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Maria in cielo continua a essere Madre. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli e da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, creatori, e adesso è il cuore del nostro nome. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, creatori, e adesso è il cuore del nostro nome. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, creatori, e adesso è il cuore del nostro nome. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, creatori, e adesso è il cuore del nostro nome. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, creatori, e adesso è il cuore del nostro nome. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo ancora per il Santo Padre, il Papa e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Preghiamo ancora per il nostro nome. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, creatori, e adesso è un'igliora della nostra memoria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il Dio, ora e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, salve Regina, Mater Misericordiae, vita dolce, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filie, Ad te suspiramus, gementes emflentes, in ac lacrima rumvale. Eia, Ergo, Advocata nostra, in los tuos, misericordes oculos, ad nos converte. et Jesu benedictum fructum ventris tui, nobis posto che silium ostendet, o clemes, o bicham, o dulcis, Virgo Maria. preghiera dell'ammalato, o Signore, la malattia ha bussato alla porta della mia vita, mi ha sdradicato dal mio lavoro, mi ha trapiantato in un altro mondo, il mondo dei malati. Un'esperienza dura, Signore, ti ringrazio proprio per questa malattia, mi ha fatto toccare con mano la fragilità e la precarietà della vita, mi ha liberato da tante illusioni. Ora, Signore, tutto guardo con occhi diversi, quello che ho e quello che non mi appartiene, tutto è dono tuo. Ho scoperto che cosa vuol dire dipendere, aver bisogno di tutto e di tutti, non poter far nulla da solo. Ho provato, Signore, la solitudine, l'angoscia, la disperazione, ma anche l'affetto, l'amore, l'amicizia di tante persone. Signore, anche se mi è difficile, ti dico, sia fatta la Tua volontà. Ti offro, Signore, le mie sofferenze, le unisco a quelle di Cristo. Ti prego, benedici tutte le persone che mi assistono. Benedici la mia famiglia, che per me e insieme a me vive nella sofferenza. Benedici tutti quelli che soffrono e se vuoi, dono la guarigione a tutti. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Unipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen. O Vergine Maria, Regina del Cielo, a Lourdes ritorna il popolo fede. Ave, 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 Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria, Sia lodato, Gesù Cristo. Grazie. 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 Grazie.